Facciamo la frittata di carciofi. Abbiamo bisogno di 2 carciofi, 2 uova, 3 cucchiai di formaggio nostrano, un pizzico di sale e 3 cucchiai di olio di oliva. Sbucciamo i carciofi eliminando le foglie dure. Tagliamo le punte e laviamo e asciughiamo l'ortaggio. Tagliamo a fette finissime. Eliminiamo dal cardo la parte esterna, quella dura. Tagliamo a fette sottili e spezzettiamo il cardo. In un piatto versiamo le uova ed aggiungiamo un pizzico di sale, il formaggio e mescoliamo accuratamente. Mettiamo in padella l'olio di oliva, le fette di carciofo e cardi spezzettati. Facciamo rosolare a fuoco basso, per circa 3 minuti. Versiamo i carciofi arosolati nell'impasto dell'uovo e mescoliamo tutti gli ingredienti. Rimettiamo la padella sul fornello, facciamo riscaldare pochi secondi a fuoco alto. Versiamo in padella l'impasto di uova e carciofi. Distribuendo bene l'ortaggio. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per 3 minuti. Appena assume il colore dorato andiamo a girare usando il coperchio della padella stessa. Rimettiamo in padella e facciamo cuocere l'altra parte per 2 minuti. Sempre a fuoco alto. Prepariamo un piatto ed aiutandoci con la porchetta mettiamo sul piatto la nostra frittata oramai cotta. Tagliamo Mmm, bella morbida! E' saporita! Mmm! E' saporita! Grazie.